Rimane una storia infinita quella della bonifica delle megadiscariche a bussi sul tirino, la cui scoperta da parte degli agenti del Corpo Forestale risale addirittura a 16 anni fa. Ad oggi, come ricordato nell'incontro di questa mattina, un primo intervento sui 112 mila metri cubi di rifiuti interrati alla discarica Tremonti va avanti da un anno e mezzo e si protrarrà per altri tre anni per una spesa complessiva di 37 milioni di euro. Viceversa, non sono partiti i lavori delle aree 2A e 2B, pur avendo avuto il via libera a settembre dello scorso anno. Un ritardo inammissibile ma anche una situazione paradossale, come sottolinea il consigliere regionale Antonio Blasioli. Ci chiediamo perché le aree 2A e 2B che continuano a inquinare, ce lo dice l'Arta questo, in realtà la bonifica non sia partita. Cioè perché Edison procede qui dove ha inquinato, mentre lì dove ha inquinato lo stesso Edison procede invece un privato o perlomeno dovrebbe procedere un privato con fondi pubblici della legge 10 del 2011. Come mai? A che punto sta? Perché tutti questi ritardi? Perché non vediamo ancora il progetto esecutivo con la quantificazione del materiale da rimuovere? Marsilio ci diceva che a luglio del 2022 sarebbe iniziata la bonifica, siamo a marzo del 2023, non c'è neanche il progetto esecutivo. È veramente una situazione paradossale, noi chiediamo al governo Meloni e al governo Marsilio di segnarsi questo punto nell'agenda e farlo diventare prioritario, non soltanto un oggetto di annuncio elettorale che poi però non porta mai a nessun risultato. Chiusura con Paola Gigli della Tremonti SRL, la società costituita ad hoc per la bonifica subentrata ad Edison, soggetto ritenuto inquinatore con sentenza passata in giudicato. Abbiamo già scavato 43.000 tonnellate di materiale di cui solo il 17% è pericoloso, tutto il resto non pericoloso. Abbiamo trovato tante macerie, alberi. Dove avete portato già il terreno contaminato e poi soprattutto queste sostanze pericolose, di cosa si tratta? Allora, per lo più sono solventi colorati. I rifiuti trovati nella parte meridionale sono stati portati di scariche in giro per l'Italia, quindi sia dal Lazio che del nord Italia e appunto, come dicevamo prima, si parla molto di macerie, di alberi e cose di questo genere. Grazie.